buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ora sono qui in macchina e sto aspettando che apri la palestra e andremo ad allenare le gambe faremo un buon workout spero che state tutti bene mi raccomando seguitemi sempre noi ci vediamo direttamente dentro la palestra rimanete con questi raga eccoci ragazzi siamo dentro la palestra mi raccomando è buona visione iniziamo a riscaldarci sono 200 kg di adali andiamo a a a adesso siamo passati a 250 kg andiamo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora faremo lo squat col manubrio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono molto stanco, ho fatto un buon allenamento di gambe, bello potente. Sono molto soddisfatto, c'è molto pump, molto sangue. Piano piano ragazzi stiamo recuperando, sono felice perché mi ero fortunato sulla gamba dove ero stato operato. Quindi c'è avuto un angioma, ragazzi, io stavo perdendo la gamba e non sono salvato il tempo. Quindi sulla gamba dove c'è avuto un angioma si era creato un afflusso di sangue e quindi non potevo più sforzare più di tanto. Mi sono dovuto fermare e ho fatto uno sforzo bello potente su uno squat, non so che è successo, su uno stacco pure. Comunque l'importante è che adesso sto recuperando. Grazie a Dio sto bene e adesso sto cercando di prendere un buon volume. Perché sai, quando l'allena è leggero o l'allena è poco, perdi sulle gambe al volume. Poi è brutto. Comunque ragazzi, io vi voglio ringraziare ancora per il vostro sostegno. Mi raccomando ragazzi, seguitemi sempre, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale. Noi ragazzi ci vediamo direttamente. Se scrivete nei commenti quello che volete vedere ragazzi, che allenamento volete vedere, che io lo faccio. Noi ci vediamo ragazzi direttamente nel prossimo video, iscrizione al canale e bella ragazzi. Grazie a tutti.